Dopo una lunga attesa, durata otto anni, torna a sventolare sulle nostre spiagge la tanta coniata e desiderata Bandiera Blu. È un immenso piacere per tutti noi, per tutta l'amministrazione, per il lavoro che è stato fatto, che è stato portato avanti dall'Ufficio Ambiente e dall'Ufficio Lemanio, che si sono veramente prodigati tanto per ottenere questo risultato. È un orgoglio per me perché veramente sono stati anni di duro lavoro, che ha visto anche una concentrazione di tante forze intervenute sul campo, a partire dalla Capitaneria di Porto, dalla Forestale, dalla Ruzzoreti, che ci hanno fornito tutti i servizi e le possibili assistenze per poter raggiungere questo risultato. Quindi monitorare degli scarichi sospetti, monitorare i fossi, quindi è stato veramente un duro lavoro e i cui risultati si sono visti praticamente lunedì scorso, quando abbiamo ricevuto l'invito da parte della FE come candidati a ritiro della Bandiera Blu 2021. Quindi in un anno, in due anni anzi, che soffriamo di questa crisi che ha colpito molto il settore turismo per via della pandemia, mi auguro che questo vessillo possa mettere benzina nel motore del turismo perché ne ha veramente bisogno. Quindi ripartire in fretta e soprattutto consci del fatto che abbiamo un mare ed una spiaggia che possono fornire servizi di alto livello. Quindi ci auspichiamo che l'imminente stagione estiva ci faccia raccogliere dei buoni frutti di questo lavoro. Sicuramente è una pubblicità importante per il nostro territorio e quindi a tutti gli operatori turistici, a tutta la comunità dico di apprezzare questo lavoro e soprattutto di responsabilizzarsi affinché si mantenga questo lavoro. Ottenere la Bandiera Blu è importante, conservarla lo è ancora di più.